Una lettera spedita a casa con minacce di morte legate alla sua attività politica. Nel mirino il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici del comune di Desulo, Sebastiano Maccioni. Non la prima volta che accade. Già nella precedente amministrazione l'uomo era stato vittima di intimidazioni. Nel Nuorese, nell'arco di pochi giorni, è cresciuto l'allarme dopo le minacce, rivolte anche all'arma, in particolare al comandante della stazione di Orosei e le frasi offensive contro la vice comandante della stazione di Desulo. E per domani il prefetto di Nuoro, Giancarlo Dionisi, ha deciso di convocare alle 10 il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Dura la condanna che arriva dal presidente della regione Solinas, un atto grave vigliaco che colpisce un amministratore locale impegnato a lavorare per il benessere della propria comunità e che si aggiunge ad altri preoccupanti intimidazioni subite da esponenti delle forze dell'ordine. Bisogna fermare questa spirale di odio e di violenza che oltre a mettere in rischio l'incolumità delle vittime è un freno allo sviluppo di tutta l'isola, conclude il presidente.